Assolutamente sì, diciamo che in questa meravigliosa location dove abbiamo fatto dialogare quello che già esiste come patrimonio archeologico, come una botteca, come tutti i beni che sono di un valore oltre alla struttura, questo è stato molto apprezzato, abbiamo inserito questa mostra delle passioni di Picasso, quindi questo dialogo ha funzionato sicuramente e la gente credo che abbia apprezzato. Parliamo sui prossimi dialoghi, cosa c'è il programma, forse a mente, sempre parla con la santa, con la santa, con la santa, dire gatto quando uno ce l'ha nel sangue, diciamo sicuramente stiamo lavorando su un programma triennale perché le due testimonianze e l'esperienza prima vissuta di artisti di Sicilia e di Picasso sono servite a dimostrare se c'era bisogno.